sono le 14 e 20 del 29 marzo 2023 mi trovo al mio orto sotto i miei salici e qui c'è tarasso in abbondanza tarasso componente di leone ecco qui adesso guardate come la raccolgo faccio così prendo intero marzo questo poi ha una continua ricrescita adesso vi faccio rivedere questo è del legno del caluto si stringe così poi senza tagliare qui un po più sopra vedete dopo di che si fa così guardate si toglie qualche impurità per toglierla meglio si fa così quindi questo è pronto la porta a casa dopo di questo viene un po fatta pezzettini posso posso bere l'acqua con il muso posso fare la frittata oppure la posso far cotta e bollita o con pezzettini di salciccia o con le salcicce fecrefe con la pancetta il problema è perché non ce l'ha questo è fresco raccolto questo non è un coltello che taglia e a segrettene vedi io sto facendo così ma se questo però era un coltello appunto ci sono coltelli pericolosi questo non è pericoloso quello pericoloso è quello da macello quali stanno certi che tagliano veramente qui ma questa che è questa è una lingua del caldo questa c'è una radice amara ma non mi ricordo come si chiama la devo informare vedete è amara si si sente proprio il profumo poi mi informo questa serve per i condimenti mi informo devo andare al libro per le erbe Per i condividi per i condividi cani per i condividi s eine Grazie.